L'ex assessore della giunta Alessandrini Stefano Civitarese torna in politica, torna come candidato sindaco, come mai questa scelta? Beh è una scelta che deriva dal fatto che una formazione, appunto, collezione civica per Pescara, ha lavorato molto in questi mesi su temi che sono a me cari, in gran parte dei quali erano stati sviluppati proprio durante il periodo del mio impegno nell'amministrazione comunale, che poi purtroppo si sono in parte arenati e questa è stata una delle ragioni per cui ho pensato di andare via. È un po' come quando fui chiamato dal sindaco Alessandrini per cercare di dare una idea, una progettualità verso il futuro della città, in questo caso con una piattaforma molto più ampia naturalmente, mi sono sentito chiamato allo stesso, come dire, la stessa missione, fa piacere ovviamente essere considerati, poi dopodiché al di là di questo quello che fa scattare la molla è che insomma uno vuole fare qualcosa di bello per questa città che purtroppo soffre da anni di incuria, di cortezza di idee, di piccolo capotaggio, invece si è formata questa piattaforma, questa coalizione piena di cittadini, di persone che vogliono appunto guardare soprattutto al futuro, ma cominciando da subito, quindi questo mi ha convinto con entusiasmo a partecipare a questo progetto, che poi si apre a tutti, insomma, noi speriamo che, visto che si parla tanto, modello Legnini eccetera, in fondo questa è una coalizione civica aperta soprattutto al mondo della sinistra che in questo momento mi pare stia soffrendo enormemente, bisognerebbe che i partiti tradizionali facessero un passo indietro e riconoscessero che se non c'è un cambio di passo non andiamo da nessuna parte.